improvvisamente mentre stavo pensando analizzando come fare il prossimo video utilizzando l'aereo inerente al viaggio meraviglioso della vita si è accesa sopra la scrivania il sole di luci che come ho detto si accendono da soli quando quando decide qualcuno da oltre di accenderlo e dopo essere rimasto affascinato sbalordito a guardarlo ininterrottamente per qualche per un po di tempo ho deciso di fare la ripresa per trasmettere l'emozione quel la sensazione che provo dentro ogni volta che improvvisamente le luci si accendono comunicando che il viaggio della vita il più bello il più meraviglioso è questo è quello che ti fa sapere che esiste una realtà oltre questa piccola momentanea realtà materiale dove qualcuno vicino e lontano si manifesta per per dirti con i fatti che non sei solo non sarai mai solo se apri la tua mente e vedi ciò che intorno succede perché è lì la soluzione del mistero un mistero che è tale solo finché si tengono gli occhi chiusi basta aprirli per vedere soprattutto per sapere che bisogna essere se stessi essere sinceri prima di tutto con se stessi e con gli altri credere nella piccola e meravigliosa vita centilla di luce pari a una lampadina di quelle che noi abbiamo dentro che noi consumiamo poco alla volta durante la nostra quotidianità ecco io ho voluto condividere questo momento perché è senz'altro una delle emozioni più belle e meravigliose che posso provare ogni volta esprimono e sono la vita l'esistere tutto ciò che non so e che ho sempre cercato di voler sapere e capire giungendo a comprendere che non devo più pormi domande vivere il mio presente nell'attesa che un giorno anche per me quell'aeroplano arriverà e mi porterà da colui che ho sempre chiamato padre, fratello, amico, capo la oltre questa piccola realtà nell'infinito dell'astralità grazie